Nel momento in cui ti connetti, perdi il controllo. Il mio bersaglio può essere chiunque, qualsiasi cosa, dovunque. Stanno spostando i soldi. Nessuna impronta, nessuna traccia. Nessuna pietà. Cosa sappiamo di lui? Dei cybercriminali hanno fatto saltare un reattore a Chaiwan e non è tutto. Per prenderlo ci servirà un hacker Black Hat che si chiama Hathaway. È un genio dei codici, sta scontando 15 anni. Se volete il mio aiuto dovete commutare la mia pena. Hai idea di quanti progressi farete su un attacco così complesso senza uno come me? Zero. Questa non è una negoziazione. Io ho deciso che lo è. Una sezione del codice, questa qui, è incompleta. Sta ancora scrivendo, ma perché? Farà succedere un casino senza pensarci due volte. Non rievocare l'11 settembre. State giù! Prima la Cina, ora Chicago. Questo è solo l'inizio. È politico? Un attacco terroristico? Né rivendicazioni né dichiarazioni. Che cosa vuole? Qui non c'entrano i soldi. E non c'entra la politica. Per te questo è solo un gioco. Un mondo virtuale. Tu non sei mai entrato nel gioco. La prossima mossa è qui dentro. Puoi craccarlo? Se no, perché mi avete chiamato? Se ti scopro, non sei finito. Lo sai cosa ha fatto? Ha craccato l'N6 e la difesa. Consegnalo. Devi scappare. Io lo fermerò. Con uno così pericoloso non so se riesco ad avvicinarmi abbastanza. Non hai più il controllo. Il vero colpo deve arrivare. Il vero colpo. Grazie a tutti.